Lo facciamo solitamente e sarà un voto e risposta e un dialogo molto importante fra gli attori e l'autrice che è seduta lì con voi nel pubblico. Beh, l'ex cursus d'obbligo è la monaca di Monza, personaggio realmente esistito, reso immortale dai promessi sposi del Manzoni, una ragazza di origini spagnole, nata a Milano, di nobile famiglia, che per una vicissitudine amorosa abbastanza importante, con il conte Usini, si vive costretta per volere del padre a prendere i voti nel monastero di San Benedetto. Purtroppo la vicissitudine non è finita lì, perché in verità tramite una rete di spie che aveva l'arcivescovo Federico Borromeo, la voce venne appunto alla curia e Federico Borromeo, processo canonico e sommario, decise di murare viva per 13 anni su Arvirginia, la monaca di Monza. La nota positiva di tutto questo è che murata viva, 13 anni, fu smurata al termine della condanna ancora viva e visse ancora nel ritiro di Santa Valeria per tutto il resto della sua vita. Quindi è una storia, si può dire, fra alti e bassi, ma comunque a lieto fine. Peraltro il conte Usini fu incriminato, fu mai incarcerato, ma fu condannato in contumace, uccise tre o quattro persone, fu un personaggio davvero particolare. E in questa splendida vicenda ci sono dei risvolti veramente positivi, che Claudia, l'amica Claudia, ha sapientemente scritto nel suo romanzo storico. Quindi ora vedremo non solo l'aspetto letterario, ma vedremo l'aspetto letterario coniugato, e io adoro questo, all'aspetto teatrale. Quindi l'aspetto teatrale con questo botta risposta di Claudia. Io ho preso due o tre appunti che vorrei menzionare ora, perché poi non ci sarà più tempo materiale, perché poi andrà avanti sino al termine della presentazione, per ringraziare innanzitutto la compagnia Sarabanda di Oggiate Molgora, di Lecco, che ora andrà in scena. Quindi Mara Gualandris, poi Pier Villa, Loredana Riva e Leonora Rovelli, Liliana Colombo, che interpreteranno in ordine Suor Virginia, Osio, il conte Osio, Gianpaolo Osio, la Badessa, la Suora Ottavia e Caterina D'Ameda. Quindi ci sarà un ampio scenario legato alla storia dei personaggi chiave in questa vicissitudine appunto di Suor Virginia. Claudia naturalmente ha detto me di farlo, perché mi sembrava la cosa più giusta e più corretta, menzionare tutti i titoli che ha vinto questo romanzo storico. Ha vinto il concorso letterario Villa Selmi, come biografia appunto della monaca di Monza, personaggio realmente esistito, ricordo. Il concorso letterario Nazione, un libro amico. E il più importante, un premio internazionale come Golden Selection della città di Cattolica. Quindi ha vinto dei premi davvero importanti, nazionali e internazionali, perché, e dopo invito le persone che non hanno letto il libro ad appistare una coppia che si trova all'interno del centro culturale, perché è veramente profondo e getta una luce veramente nuova, svelando dei misteri e dei segreti sulla monaca di Monza. Quindi non vi sottrago più tempo e lascio partire la rappresentazione teatrale. Grazie ancora di essere venuti. Grazie. 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 Grazie.